3, 1, 1, 1 Dai, 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 andiamo! Non è una gara come tutte le altre, questa è la seconda emizione, questo è il buon giornale Vecchio! 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 Ha fatto la giusta! Vecchio! Vecchio!i vengono! Vecchio! Cosa fare l'amore con il primo? Vecchio! Se avvicchio! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vai, vai, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.